Sono stati capaci di superare ben tre prove guadagnandosi l'idoneità concorsuale, ma a distanza di tre mesi dal termine del concorso non vi è ancora una graduatoria ufficiale. Parliamo del concorso relativo al reclutamento di 200 funzionari amministrativi e tecnici presso la Regione Puglia. Al concorso si sono iscritti poco meno di 36.000 candidati che hanno versato una quota individuale di partecipazione di circa 20 euro. La prima prova preselettiva ha avuto inizio il 12 giugno 2014, le ultime prove orali si sono invece concluse lo scorso maggio 2015. Al termine delle fasi concorsuali sono risultati idonei 458 candidati per il profilo amministrativo e 211 per quello tecnico, ma dalla graduatoria ufficiale nessuna traccia. I vincitori ufficiosi temono di essere scavalcati dai precari storici dell'ente, così alcuni di loro hanno deciso di costituire un comitato di vincitori e degli idonei per tutelare i loro interessi. Dopo tanti mesi ormai dalla conclusione dell'iter concorsuale non abbiamo ancora una graduatoria ufficiale di vincitori e di idonei a questo concorso. Tra questi precari ci sarebbero alcuni che hanno partecipato al concorso per 200 funzionari e che sono risultati idonei, altri invece non hanno proprio partecipato e altri ancora hanno partecipato e non sono risultati idonei. Il timore, spiega il presidente del comitato, è che di fatto i precari che non hanno raggiunto l'idoneità concorsuale o che hanno ritenuto di non parteciparvi possano occupare posti di lavoro che andrebbero assegnati a chi ha superato un concorso pubblico. A noi preoccupa innanzitutto che questo elenco di precari possa la regione attingere da questo elenco piuttosto che dall'elenco di questo concorso che dovrà prima o poi uscire e vedere dei vincitori e degli idoni e di persone che hanno sostenuto questo concorso. La speranza, dicono, è che la Puglia dia un segnale forte che la nuova amministrazione non resti sorda dinanzi alle richieste di persone meritevoli. Nella pubblica amministrazione si accede tramite concorso pubblico. La Costituzione lo dice, recita chiaramente che si accede alla pubblica amministrazione tramite concorso pubblico. Noi chiediamo di avere questa possibilità, ossia di accedere in regione Puglia tramite questo concorso che molte persone hanno sostenuto.